Sabato 7 e domenica 8 giugno presso la fiera internazionale di Genova arriva la quarta edizione di Fight Games arti marziali, sport da ring, autodifesa, ballo e tanto altro ancora Campionati italiani, campionati nazionali, campionati mondiali degli sport da combattimento e delle arti marziali Dall'ore 10 alle 19.30 settore dedicato ai dilettanti e sabato 7 giugno alle ore 21 galà dei professionisti Marco Costagutta vi aspetta numerosi This is Fight Games Mia Grazie a tutti. Nuova puntata di Five Games, la trasmissione di sport da combattimento, le arti marziali, il fitness e il ballo. Quest'oggi andremo a trovare sulla fascia di rispetto di Pra, la nostra campionessa di fitness, Barbara Fabri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A tutta birra con il fitness e qua in specifico con il ballo. Siamo in compagnia di? Esther. Avete appena visto terminare una coreografia di Zoom che è una delle lezioni che fa Barbara e oltre a questo fa Pilates, Fit Mix, Total Body. Sono tutte attività per farci muovere divertendoci e sempre abbastanza con un certo dinamismo. Hai detto bene, molto dinamismo e proprio parliamo di tantissime discipline similari ma non uguali, molto colorate che tra non molto le vedremo tutte quante al Five Games che sarà il prossimo evento di sabato 7 e domenica 8 giugno al Palasport della Fiera Internazionale. Sì, Barbara ha avuto a disposizione uno spazio da organizzare proprio per portare le discipline del fitness e quindi ci saranno veramente delle piccole lezioni che daranno un assaggio di quello che è il fitness al giorno d'oggi che ormai ha veramente diverse sfaccettature oltre al classico step e l'aerobica che comunque rimangono le numero uno e quelle sempre più gradite. Ci sarà una piccola masterclass appunto con step coreografico, la domenica nello stesso stand ci sarà la possibilità di provare le attività del Play Group Academy con Marcella Porro, insomma che è un fitness molto stile militaresco e cos'altro? Beh la zumba che non manca che è quella che ci permette di divertirci in palestra senza accorgerci della fatica che facciamo. E che possono fare tutti dai più piccini ai più grandi, dagli ometti anche dalle femminucce. Sì, sì, beh ovvio, senza esclusioni di categorie. E allora che dire, vi aspettiamo numerosi e passiamo poi al nostro prossimo ospite, la nostra maestra con Barbara Fabri. Ciao! Ciao! C'è stato un po' con il che dice che ti amava? A caso si è stato un po' iluoso o nada? No me choca di sapere che solo ti stai Io te lo dico che ti ibano a pagare con la mia moneta Te pintaron pajaritos nel l'air Te juzgaron falso amor e lo peggie Su promessa se quedaron nel l'air Mi stai senti che un dia mi existe Te pintaron pajaritos nel l'air Te juzgaron falso amor e lo peggie Su promessa se quedaron nel l'air Mi stai senti che un dia mi existe Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un pesaje por mi te salgo Te lo mereces Y las relaciones o pa' sufrir a veces Así como sufrir yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones o pa' sufrir a veces Así como sufrir yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos nel l'air Te juzgaron falso amor e lo peggie Su promessa se quedaron nel l'air Espero que sientas lo que algun dia sintio mi corazon Te pintaron pajaritos nel l'air Te juzgaron falso amor e lo peggie Sus promessa se quedaron nel l'air Estas sintiendo lo que algun dia me hiciste Te pintaron pajaritos nel l'air Te juzgaron falso amor e lo peggie Sus promessa se quedaron nel l'air Estas sintiendo lo que algun dia me hiciste Y de colombia para el mundo entero se presenta En los delentor Miranda y Justin con el Andy Con el Andy Rivera Con el Andy Rivera Yanda y Justin punto com Los delentor y punto com Con el Rivera Ey si vos siento y nada o si tu es vos siento y todo Ey Hoy yo a llegué aquí Solo me devuelvo que ahí Te he llamado en ocasiones si tu nunca has respondido Deja a un lado el mal de amores no es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches Solo que estás a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Quizás te juri algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo In compagnia con un'altra istruttrice di fitness Siamo in compagnia con Daniela Canepria Allora Daniela Tra poco arriverà il nostro Five Games Al Palasport di Genova E che cosa ci presenterai quel giorno? Noi quel giorno oltre alle altre attività Che ci saranno dalle 10 in poi Faremo una masterclass insieme a Barbara Dove porteremo i sacchi di fitbox E ci articoleremo con lei Una sessione di coreografia di step e tonificazione Allora tante discipline Ma appunto una diversa dall'altra Spiegami un po' la differenza Più o meno delle discipline Che voi andrete a fare proprio al Palasport C'è la zumba Che è tutta una sequenza di passi Coreografie ballate senza step, senza appoggi Poi ci sarà la sequenza dello step tono Dove andremo a fare delle tonificazioni Con degli esercizi su un attrezzo Chiamato step che si trova a terra Poi faremo fitbox Che sarà un insieme di piccole coreografie Unite a pugni, calci, ginocchiate A ritmo di musica E poi non ne so le altre E poi ho saputo che c'è un'altra specialità Mi pare il Kangoo Kangoo jump Sono praticamente delle specie di Chiamiamoli pattini Con sotto delle molle Dove si può saltellare Senza creare impatto sulla colonna vertebrale E fare anche delle coreografie Attraverso questi Kangoo jump Che sono poi dei pattini molleggiati Ci sono tante persone che partecipano a questo tipo di disciplina A questo Kangoo Kangoo jump sta nascendo da poco qua a Genova E si sta iniziando un po' a espandersi Per cui si prova anche a lanciare Comunque si stanno avvicinando molte persone a questa disciplina Perché comunque è divertente, coinvolgente E non è pericolosa per la salute Come tante altre cose che escono nuove E quindi a questo punto aspettiamo veramente tantissime persone Nel vostro spazio Che avrete appunto entrando in fiera Sul lato destro, sul lato sinistro Comunque sia Vi troveranno Perché sarete veramente Farete un grande casino Tanto spettacolo Tanta musica Brava Quindi studiamo quotidianamente in palestra Tante ore di allenamento Ma vi posso garantire che ne vedete delle belle Quindi vi aspettiamo a Five Games Insieme a Daniela e Babby E tutti gli altri istruttori Vi aspettiamo Bona vista Dance Club Lo mi di Let's go Hey manita Tu carisma me hace to' loco Sexy señorita Contigo passo Tora mi vida Oh 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 Me encanta solo questo Te encanta sorrido Te encanta sorrido It's true romance what you're giving Want this to last, yeah I'm wishing Yeah everything in my visions Yeah everything in my visions Papi cause you bring that heat I'm so diddy booby then not geek And you so G, that's what I need Ain't no question where I need the beat Forget that guard, I let that down It ain't no games, we took it down When we step out, we run this town That's how we do, we pound for pound Do what we want and do it proud For your lovin' boo a golden brown So I'm going up to my speed I ain't ever gotta say I need Hey mamita, tu charisma me hace taloko Sexy señorita, continuo passo toda mi vida Me encanta su ritmo Su ritmo Me encanta su ritmo Su ritmo Me encanta su ritmo Me encanta su ritmo Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. I love it when you're moving to the music, don't stop. Hey mamita, tu carisma me asenta loco. Sexy señorita, continuo paso toda mi vida. Me encanta su ritmo. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me encanta su ritmo, oh yeah, 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 oh Barbara Fabri. Ciao Barbara. Ciao a tutti. Allora di che cosa ci occuperemo alla fiera internazionale il 7 di giugno? Per quello che ci riguarda di fitness e danza quindi kangoo jump, zumba, step, tonificazione e insomma aspettiamo anche altre adesioni perché continuano a chiamarci per partecipare all'evento che sta diventando sempre più grande e è un tam tam continuo e ci sarà anche una bella esibizione di danza con Chiara la sua scuola di danza. Sappiamo cara Barbara che tu sei la responsabile proprio dell'ente di promozione numero uno in Italia che è lo Xen quindi si parla di fitness, di ballo, di fitbox e di tanto tanto ancora. Certo, vabbè Xen racchiude tantissime cose, è un ente sportivo importantissimo tra i primi in Italia e ormai comunque ci accompagna noi nei nostri eventi da tempo, nel tuo evento e continueremo secondo me così bene alla grande Silvestro De Montis, il presidente, è sempre entusiasta delle nostre iniziative e insomma cercheremo di farlo sempre più contento. E' vero anche perché comunque Fall Games io mi ricordo è partito tre anni fa avevamo più o meno 500 atleti ebbene questo evento qua ne avremo più di 3000, 18 aree il sabato, 29 aree la domenica quindi veramente tanto da vedere per i più piccini, per i più grandi, anche per gli anziani perché Barbara insegna anche a non tanto giovani. A tutti, dai 0 ai 99 anni, insomma è per tu lo sport, è per tutti, è aggregazione quindi lasciamo fuori invidie, prime donne e via dicendo ma cerchiamo di viverla con passione come Devast. E se andrà bene questa edizione di Fall Games, edizione 2014, chissà, ne faremo un'altra ancora più grande perché è importante il fitness, il fitness di tutti i giorni in palestra ma soprattutto farlo conoscere al grande pubblico. Le mie allieve mi danno sempre un sacco di forza e le senti e poi insomma lavoro con la T4Tac che è una nuova realtà e con loro facciamo sempre un sacco di eventi e un sacco di cose. Adesso anche con voi, secondo me il Fight Game promette molto bene. Bene e allora a questo punto, cara Barbara, ci vedremo con le tue socie, con i tuoi istruttori, istruttrici a Fall Games il 7 di giugno e poi proseguirà anche l'8 di giugno quindi la domenica. Ci vediamo. Ciao a tutti. 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 . 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